Abbiamo invitato in redazione Franco Benedetti Teglio che è titolare di una vita molto dolorosa, molto complessa sulla quale sta riflettendo da qualche anno perché le cose che ha vissuto erano talmente scioccanti che c'è stato bisogno di tempo per elaborarle ed è una storia di soprafazione legata alle persecuzioni razziali che poi è improprio la persecuzione razziale perché parliamo delle leggi razziali però in realtà erano persecuzioni antisemite nel 1938 lui era un bambino a quell'età lì? No, non ero nato sono nato sotto le leggi razziali sono nato sette o nove mesi prima delle leggi razziali quindi ti ha accompagnato nello svezzamento diciamo c'erano già c'erano già prima delle leggi razziali la preparazione è stata fatta in dieci anni del pubblico italiano obbedire a queste cose per cui è chiaro che già gli ebrei sentivano nell'aria delle cose tremende e mio padre in particolare che era uno dei più importanti piegati di Stato tu sei un esponente della comunità ebraica italiana io sono un ebreo italiano un ebreo italiano assolutamente italiano da credo duemila anni certo esistono i cattolici ci sono gli ebrei adesso abbiamo anche i musulmani i buddisti per fortuna abbiamo anche i ciclisti italiani ciclisti italiani poi se uno vuole medici perfino medici che dicono che sono italiani anche i medici esatto allora come ha vissuto perché ovviamente tu stai facendo un percorso di riflessione su quello che ti è capitato da vivere proprio in quegli anni lì forse il tempo il tempo che è servito per arrivare a rielaborare questa sofferenza deriva proprio dal fatto che tu eri proprio un bambino piccolissimo deriva anche da altre cose da terrori e da fatti familiari avvenuti dopo suicidi avvenuti subito dopo la guerra e da situazioni familiari gravissime che nascono quando una famiglia rimane completamente isolata dal mondo dalla nascita dei figli quindi la famiglia ha anche all'interno delle tensioni pazzesche fratello i due fratelli il nonno quindi questo è rimanere isolato per i primi otto anni isolato io non ho mai conosciuto un bambino da quando sono nato all'età di otto anni questo perché? perché devo cominciare la storia che ho cominciato a ristudiare solo pochi anni fa cioè a 65 anni io questa storia l'avevo completamente come si dice rimossa rimossa ecco al punto che io ho fatto consulente in direzione aziendale per 45 anni inventandomi sempre tutto perché non sono laureato però ho rifatto circa 200 aziende e sempre con esiti positivi però nessuno delle migliaia di persone che mi ha conosciuto che ho poi cercato di ritrovare dopo dopo le mie ricerche tutti mi hanno detto ma noi di queste cose di te ma proprio non immaginavamo mai nulla quindi evidentemente io ho ho rimosso come la parola giusta è rimosso devo dire che quando ho cominciato a scrivere dei racconti inventati dietro ai quali poi ho deciso di fare le ricerche sulla mia realtà e allora sono andato a sforgugliare quindi alcuni alcuni fatti che tu hai vissuto sono si sono esplicitati sotto forma di racconto ma il racconto era inventato quindi i fatti erano volutamente inventati l'ho fatto per la scuola Holden quindi erano volutamente dei racconti ecco perché hai sentito il bisogno di iscriverti alla scuola Holden perché ho la proibizione tra le varie proibizioni che mi sono nate c'è quella di scrivere e probabilmente non avrei mai avuto ma chi è che ti ha proibito di scrivere perché non puoi esistere se non puoi se nasci solo sotto la proibizione di esistere con le leggi dello tuo stato con la con la con la rimozione dal lavoro di tuo padre quando nasci con tutto quello che la famiglia ti ti incute non farti vedere non far non far vedere il tuo pirolino perché ti ammazzano questo un po' dopo perché ero circonciso perché ero circonciso tutti questi fatti che alla nascita hanno creato in me non so se in quanti altri una situazione di paura di esistere e di vergogna di esistere quindi paura e vergogna nello stesso tempo per cui uno quando cerca di esistere perché comunque il bambino poi nelle mie storie esiste come e cerca nei boschi di aiutare gli altri di lavorare con i partigiani a cinque anni a sei anni eccetera ma poi si nasconde sempre dietro un altro perché sa che lui non è al diritto e se lo beccano è finita quindi c'è ne nasce una specie di vergogna di far qualcosa di proibito questo lo dico perché ho dovuto andare anche spesso in analisi non molto tempo ma di volta in volta durante gli anni magari due mesi mentre viaggiavo per i miei lavori perché perché di colpo mi venivano queste proibizioni perfino idee che avevo avuto per ristrutturare nel bene un'azienda io ho sempre ristrutturato in periodi di espansione grazie a Dio quindi strutturare mi sparivano queste idee perché io non posso non posso e questo non potere è venuto fuori anche nella scrittura quindi mi sono iscritto alla scuola Holden perché c'era l'obbligo in quei corsi in particolare di uscire con dei racconti scritti quindi non sono andato a sentire dei corsi di lettura ma sono andato a corsi di scrittura ma solo per quest'obbligo poi ho sentito un sacco di scrittori che ci hanno parlato eccetera e mi ha servito ma fondamentalmente c'era da vergognarsi e uscire senza le tappe principali della tua vita dall'epoca insomma delle legge nazionale 1938 diciamo fino alla fine della guerra ecco quali sono state allora le tappe sono la nascita sotto shock dei genitori che sapevano che prima o poi sarebbe scoppiato delle cose sugli ebrei e già sapevano che tutti gli ebrei scappavano da varie zone dell'Europa e arrivavano in Italia ma erano maltrattati lo shock e questo sono i primi otto mesi prima della dopo la nascita quindi un'angoscia il sentire mio padre grande italiano 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 in tutti i sensi che amava la sua patria che aveva dei problemi col suo lavoro teniamo conto che mio padre era il più importante chimico nel suo campo in Europa e dipendeva dallo stato italiano era il capo di tutti i laboratori chimici della marina militare quindi noi eravamo dei nomadi la nostra famiglia era una famiglia nomade che viveva un po' a Taranto un po' alla Spezia un po' alla Pallerone questo paradossalmente è stata una fortuna però eravamo già nomadi esatto per cui ad un certo punto tuo padre decide di trasferirsi in Francia no dunque facciamo il punto quindi già noi siamo nomadi senza un'origine i bambini nascono senza un punto di riferimento con dei nonni che non ci amano molto gli unici nonni che esistevano quelli di parte materna perché perché mio padre era un impiegato di stato di altissimo livello uno scienziato ma mio nonno era un commerciante con grosso potere a Genova di commercio quindi non si amavano molto anche per seconda fase un classismo di censo diciamo ma mio padre aveva un grosso senso dell'umorismo mio nonno aveva il senso del potere del commerciante abbastanza ricco il mio padre non era molto ricco perché era un impiegato di stato ed era uno che amava la sua patria ma c'è uno che alle regole ci stava il nonno come tutti i commercianti era una persona seconda fase mio padre viene licenziato in tronco causale leggi razziali legge numero 17 del novembre del 38 ebreo c'è nessuna causale giustificativa se non una legge mio padre che amava la sua famiglia come tutto che amava la sua patria come tutto che amava il suo lavoro forse ancora di più che la sua famiglia o almeno di colpo viene azzerato mio padre subisce e noi bambini sentiamo questo azzeramento immediatamente credo di più di grandi perché in famiglia questo viene sentito lui di colpo non può più tenere la sua famiglia non la può più mantenere non la più ha una piccola pensione ma non eravamo ricchi forse dobbiamo andare dai nonni farsi aiutare dai nonni cosa terribile per lui il suo lavoro più niente quindi famiglia niente lavoro niente e quindi lui è la patria la patria la patria fa una legge contro se stessa quindi lui infatti noi sappiamo che dopo la guerra dopo ci porta fino a dopo la guerra e dopo la guerra lui si suicida perché il suo compito è di portarci fuori dalla guerra e tu questo l'hai saputo però molto tardi non quando lui si è suicidato te l'hanno tenuto nascosto questo il suicidio di tuo padre no 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 dunque adesso vi faccio vi faccio le fasi quindi il licenziamento di mio padre mio padre che cerca un lavoro in Italia disperatamente mio nonno che dice eh vedi sfaticato che non trova non trova nessun lavoro perché intanto aveva i segreti militari e lui mai avrebbe tradito i segreti militari quindi doveva a lavorare un chimico specializzato in gas segreti militari sottomarino teniamo conto che ho trovato poi delle foto in cantina che lui con grandissimi onori in mezzo a ufficiali di marina vestiti in bianco eccetera e lui in posto d'onore va al varo di tutte le navi le navi militari che vengono prodotte a Taranto alla Spezia e nei vari cantieri lui è l'uomo d'onore perché lui si è occupato di tutta la parte scientifica quindi di colpo viene azzerato cerca lavoro in Italia non lo trova agli ebrei che dava un lavoro sotto leggi razziali quando tutti parlavano male degli ebrei e allora va in Francia con tutta la sua famiglia dove ci danno troviamo delle persone ricche che probabilmente ci conoscevano io dico dei probabilmente perché tutte queste storie le ho dovute rubare alle cantine di Genova alle cantine di Torino di mia madre e a delle persone che ho visto solo dopo 60 anni da questo che è successo quindi e più dai miei sogni che sono abbastanza significativi una volta che si associano ai discorsi che ho sentito da tante persone purtroppo non dai miei familiari dai miei familiari di questi discorsi non se ne è fatti perché una buona parte si è suicidato o è mortale in campo di concentramento e l'unica persona che non si è suicidata è mia madre con lei non se ne parlava per ragioni che poi dico è l'unica che ha vissuto fino a 90 anni farei chiedere subito viene subito fuori è dopo guerra che vengono fuori queste ragioni gravissime in famiglia andiamo in Francia in Francia viviamo a carico di altri per mio padre sento ancora adesso perché adesso che rivedo l'album di foto della Francia vedo queste cose che a noi ci fotografiamo sempre sorridenti ma si vedeva la faccia di mio padre mio padre offrono un lavoro molto importante questo lo trovo in dei suoi appunti che ho trovato in cantina pochi anni fa il lavoro era pagato circa 4 volte il suo stipendio italiano mio padre rifiuta questo lavoro litigi con mia madre che ancora adesso io comincio a ricomincio a ricordare perché avevo 2 anni 3 anni 4 anni quando litigavano perché mio padre ha rifiutato questo lavoro mio padre mia madre era figlio di mio nonno commerciante qui in un carattere intermedio dice ma come fai abbiamo 2 figli e mio padre non accetta questo lavoro perché questo lavoro voleva dire in Francia lavorare in base alla conoscenza di segreti militari di cose di cui lui alla patria Italia mai avuto la tessera fascista alla patria Italia aveva giurato di non lavorare mai usando queste conoscenze non segreti queste conoscenze quindi ancora di più per cui mio padre fa il manovale in giro viviamo a casa di persone ricche poi riusciamo a trovare un alberghetto dove ci ospitano e vengo a sapere nella Francia del sud immagino nella Francia del sud ex-en-Provence dove vengo a sapere dopo parecchi anni che la titolare dell'albergo non ci aveva fatto pagare per 3 anni nulla però l'albergo era invaso da vecchi non dico una parola ma mi viene comincia per STR coppie di vecchi che vivevano in questa pensione perché erano ricchi non avevano più voglia di stare a casa loro e vivevano lì erano tutti erano tutti razzisti e francesi come si dice collaborazionisti allora non c'era ancora non c'era ancora Pétain siamo ancora nel 39 la guerra non c'è non siamo in guerra non erano ancora stati invasi dai tedeschi quindi però erano nazionalisti e antisemiti per cui noi due bambini papà e mamma quando entravamo in quest'albergo dovevamo sentirci e subirci teni conto che io sono arrivato in Francia che avevo un anno sono andato via che aveva 5 dovevamo sentirci queste persone che dicevano Juif Cochon Juif Salot e sono parole queste le ho sempre ricordate anche quando non conoscevo la mia storia per un bambino che già non ha diritto a esistere già questo il posto dove abita dove abita dover sentire queste cose al punto che sembra e perché poi c'è dei racconti di mia madre che si è scritti che io ho trovato nelle cantine e forse me li ha raccontati ma io dopo la guerra ho rimosso anche il dopoguerra che è stato molto peggiore della guerra quindi queste cose le ho riprese dopo dopo molti anni pare che hanno detto fuori gli ebrei o fuori noi che paghiamo loro non sapevano che noi non pagavamo ma immaginavano che pagavamo poco perché mio padre faceva il manovale in giro la titolare di questa pensioncina ha detto fuori voi io gli ebrei li tengo quindi devo dire ci sono degli eroi e ci sono delle persone eccezionali le abbiamo trovate anche in Italia se sono vivo sono queste persone qua per fortuna negli spettatori ci sono spettatori che si girano dall'altra parte ci sono spettatori che collaborano con i carnefici e ci sono spettatori che resistono la prima realtà in cui ti sei imbattuto è che esiste una massa enorme di dolore di cattiveria di orrore nella quale però galleggia sempre qualche cosa di positivo parecchie cose positive però sono minoranze perché la grande massa subisce subisce la propaganda ingloba tutto e obbliga la massa a subire e la massa poi li va anche bene perché a volte hanno dei guadagni hanno tutti i posti degli ebrei licenziati l'hanno presi gli insegnanti delle università gli insegnanti delle medie che hanno preso i posti quindi la massa da un lato subisce ma dall'altro approfitta ma c'è una parte di massa che resiste e se l'Italia c'è stato i partigiani non sono loro che hanno vinto chi ha vinto secondo me è la resistenza civile che ha creato la resistenza militare quindi è la resistenza della pancia la resistenza del cuore quindi questa madame Vidal ha detto fuori voi però sono arrivati a un accordo tipo le sindacati cioè che noi non avremmo mai più mangiato nell'unico salone che c'era in quell'albergo dove i vecchietti giocavano tutto il giorno a carte eccetera e dove si doveva comunque passare per andare su nelle camere anche lì c'era una presenza nascosta ecco è stato terribile era terribile dover passare in mezzo ai tavoli per andare su a mangiare perché noi dovevamo passare in mezzo filtrati da questa gente e per noi bambini mio fratello era più studioso già tre anni quattro anni io ero reattivo quindi io ti racconto un episodio terribile che avvenne la persona cattiva che era la capopopolo era una vecchia zoppa vecchia per me una vecchia zoppa era una strega chiaro per un bambino non poteva essere altrimenti questa signora col marito era quella che capeggiava tutto quello che c'era contro di noi le cose contro di noi non c'era neanche bisogno di rivolta farci dei dispetti mettersi in mezzo quando passavamo e noi dovevamo chiedere scusa pardon madame un peu passé e un giorno questo è stato scritto anche in una lettera tra mia mamma e mia nonna quindi ho letto una lettera che ho trovato nelle cose di mia nonna nella cantina di mia nonna che era rimasta in Italia Franco che sono io è un po' nervoso e oggi ce n'ha fatta una grossa entriamo nell'albergo per andare su mentre loro giocano ancora a carte madame pesce che è questa signora cattiva si mette di traverso per non lasciarci passare mette il bastone di traverso noi passiamo di lato passa Bruno mio padre passa Sergio passa la mamma e il bambino rimane indietro il più piccolo io avevo un anno meno di mio fratello e io guardo madame pesce la guardo in faccia lei tira giù l'occhio perché non osa guardarmi è la prima volta che io ero io e le ho dato un pestone così forte che pare che sia andata in ospedale c'è stata una cosa terribile perché però madame vidal che era la padrona dell'albergo ha vinto ancora una volta ha detto è un bambino quindi questa descrizione l'ho trovata e adesso me la ricordo completamente perché l'ho trovata in una lettera ma io la posso raccontare e posso giurare anche se qualcosa ci aggiungo ecco i miei racconti Francia finiamo con la Francia dopo due o tre anni finalmente mio padre trova un lavoro in Francia ma intanto arriva la guerra noi italiani di colpo c'è la guerra arrivano i tedeschi nella Francia del sud e arrivano gli italiani senza colpo e ferire invadono la Francia del sud mentre i tedeschi invadono la Francia gli italiani lo fanno e entrano in guerra quindi gli italiani sono dei grandi traditori non c'è dubbio perché entrano quando la Francia è con l'acqua alla gola entrano in guerra quindi questi signori cominciano a dire quando passiamo juif cochon italien trêtre io sentirmi parlare anche male specialmente degli italiani di cui mio padre mi parlava sempre dell'Italia come una cosa fantastica che l'avremmo rivista dopo che saremmo tornati ci faceva parlare in italiano perché non dovevamo dimenticare questa bellissima lingua avremmo riconosciuto i nostri cugini gli amici avremmo avuto una casa nostra sentire dire italiani traditori ed ero piccolo quindi erano delle autorità che lo dicevano quindi ancora una volta tutti i miei valori poi ci credevo o non ci credevo ma insomma erano le persone importanti che dice io ricordo c'è una cartolina e c'è un diario di mia mamma in cui dice Sergio che è mio fratello studia ma Franco continua a farmi delle domande e mi ha chiesto perché noi siamo perché se noi 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 che siamo italiani noi siamo gli italiani perché io pensavo agli italiani in Francia che eravamo noi quattro ma cosa abbiamo fatto intanto ci laviamo tutti i giorni e dicono che siamo sporchi come ebrei come italiani dicono che abbiamo tradito questo devo averlo detto a quattro anni o cinque quindi già quando uno cominciava e quindi sono questo ti conferma un pochino questo bisogno di esistere ma questa conferma che l'esistenza è proibita come italiani come ebrei come persone mio padre finalmente trova un lavoro nel 42 questo l'ho saputo solo da una lettera che ho trovato in una cantina che è del 43 se no non avrei mai saputo che quando eravamo stati cacciati dalla Francia questa lettera viene scritta dalla Francia all'Italia da un industriale che dice lei ha salvato lei in un solo anno di lavoro un'azienda di saponi e di beni per la bellezza come si chiama cosmetici cosmetici mio padre pare che in un anno solo l'azienda era in fallimento per ragioni tecniche mio padre in un anno solo ha rifatto tutti i cicli produttivi e pare che questa azienda è diventata la migliore di Francia in un anno c'è questa lettera del titolare lei è andato via non ha neanche potuto salutare come mai speriamo che questa guerra finisca presto perché non possiamo essere nemici lei ha salvato la mia azienda quindi mio padre ha trovato un lavoro senza andare contro le sue convinzioni perché era un lavoro chiaramente era un esperto di glicerina oltre di tutto il resto quindi nitroglicerina nitroglicerina di qua glicerina per saponi e per tutti i beni del per l'e quindi vengo a sapere da questa lettera che siamo tornati in Italia chiamati d'urgenza dagli italiani con un treno che ci sbatte in Italia perché i suoi ebrei Mussolini li voleva in Italia li voleva in Italia e a noi ce l'hanno venduto come obbligo da fare entro poche ore per salvarci ma la sostanza che adesso che ho studiato con molti storici giovani che hanno visto questo periodo la sostanza è molto diversa la sostanza è che Mussolini litigava con Hitler su alcuni aspetti perché lui non accettava di essere il secondo però sapeva che in Francia era il secondo litigava specialmente con i francesi che già prendevano gli ebrei e non voleva consegnare che fossero i francesi a consegnare i suoi ebrei italiani quindi la sostanza è che Mussolini ha salvato molti ebrei italiani che per due anni sono stati protetti in Francia sotto il protettorato italiano della Francia del sud nel nord no nel nord c'erano gli tedeschi quindi tutti i collaborazionisti francesi venivano bloccati dalla milizia italiana perché non potevano toccare gli ebrei poi ci hanno impatriato e appena arrivati in Italia nel 43 sappiamo che è stato il momento peggiore il momento in cui bisognava nascondersi quindi noi in treno io e mio fratello sognavamo l'Italia ah torniamo torniamo vedremo i nostri cugini queste bellissime cose torniamo e dobbiamo nasconderci adesso a questo punto ecco la cosa principale alcune cose le abbiamo già dette della tua storia è chiaro che diciamo così la tipologia della storia è terrificante ed è angosciosa c'è una cosa però importante che molti che hanno preso coscienza di questo percorso esistenziale magari scrivono un libro tu invece non hai voluto scrivere un libro hai voluto mettere a disposizione delle scuole la tua esperienza è vero o no? ormai ho parlato con 10.000 ragazzi ma io quando parlo con i ragazzi parlo di tre ore di seguito e parlo dell'oggi cioè riporto queste cose a cose che succedono oggi in giro per il mondo a negazione alla negazione di personalità che esistono per varie persone nel mondo e se vado nelle scuole pretendo un ritorno torno dopo un mese o due i ragazzi devono aver fatto dei lavori dei lavori anche divertentissimi tra l'altro li faccio ridere ragazzi parlando della mia storia perché questo bambino è spesso vincente nelle condizioni peggiori e è vincente specialmente dai 6 agli 8 anni quando è nascosto nei boschi italiani perché allora comincia a sviluppare la sua personalità sa che non può parlare però però diventa anche trasmette tra i partigiani e i paesi dei biglietti vive nei boschi fa la stafetta fa delle cose di cui è convinto di essere vincente anche se è sempre perdente rispetto al fratello e come reagiscono i ragazzi di fronte a queste storie devo dire che io ho trovato sempre degli insegnanti magnifici perché io pretendo qualcosa di grosso io non sono il classico persona che va a raccontare la sua storia e se ne va io quando ho raccontato la mia storia e la racconto in modo anche cinematografico delle proiezioni eccetera li faccio anche divertire però però pretendo un lavoro da loro e di solito vado a ritrovarli dopo un mese o due e per un'ora e ottengo delle cose fantastiche ho già 4-5 mila lavori a casa di ogni tipo di ogni livello dalla prima media alle quinte liceo adesso andrò anche all'università che sarà un pochino più difficile perché perché di lì si vede come da un racconto del genere davvero si parla del futuro direttamente dell'attualità e del futuro e non del passato cioè il passato diventa immediatamente proiezione di come sono oggi delle popolazioni di come si trovano e quindi i temi più belli devo dirlo sono dei ragazzi arabi di terza media moldavi russi arrivati in Italia anche italiani perché una parte del tuo percorso in fondo l'hanno condiviso tutto diverso però comunque sentono di non essere a casa loro sentono di non essere molto amati e cercano di quindi questo secondo me è molto importante e credo che di fare qualcosa di importante su questo perché gli insegnanti che mi dicono che con i ragazzi non posso starci più di mezz'ora un'ora e dopo tre ore mi chiedono di continuare senza lasciare parlare loro la prima volta perché li faccio parlare quando torno quando torno mi leggono i loro lavori mi fanno tutte le domande accetto tutto anche di parlare di palestinesi di qualunque cosa perché bisogna capire che quando c'è un contrasto tra due enti nessuno dei due a volte è cattivo ognuno ha degli interessi in contrasto tra l'altro devono trovare delle strade a meno che non siano dei delinquenti e questo passa è un messaggio che ho visto che gli insegnanti mi hanno detto ma adesso vogliono studiare tutto storia tutti la storia dopo che sei venuto tu almeno in molti insegnanti e vogliono capire questi meccanismi e ecco quindi credo che questa mia ricerca sul passato che mi permette di parlare con uno spessore enorme di queste cose poi ho lavorato anche con la facoltà di filosofia io sono solo un perito meccanico ho lavorato con la facoltà di filosofia in uno studio laico sulla Shoah cioè come problema dell'umanità e non come problema degli ebrei e quindi ho elaborato delle cose che però io racconto la mia storia dentro ce le metto ma non faccio mai l'insegnante le metto negli episodi facendole un po' uscire dagli episodi ma rimane la mia storia perché la mia storia è diverta ci sono due cose che volevo chiederti per concludere questa intervista allora la prima è questa cos'è che ti dà fastidio della giornata della memoria perché c'è di sicuro qualcosa che ti dà fastidio più che fastidio io sono convinto che la giornata della memoria come certe manifestazioni sono importantissime perché se no si chiude su amnesie di cose di cui l'Italia ha avuto amnesie l'Italia ha avuto un sacco di amnesie i 600 mila neri ammazzati con i gas non se ne parla ancora non c'è una giornata che parla dei 600 mila neri nel 36 l'amnesia guerra d'Etiopia diciamo tutto l'amnesia sulle leggi razziali c'è in Francia c'è in Italia dappertutto e la stessa resistenza ha creato amnesie sulle leggi razziali comandante Badoglio diciamo tutto sì ecco ma la stessa resistenza italiana ha preferito parlare degli eroi o dei partigiani ma poco delle leggi razziali italiane che sono la che sono la base di partenza di tutto quello che è successo dopo della Shoah le leggi razziali italiane quelle francesi quindi io credo che è importante che si faccia la giornata della memoria la giornata della memoria però è troppo piena la gente si è un po' stufata si dice che bisognava parlarne tutto l'anno io ne parlo in tutto l'anno quando mi chiedono di andare al giorno della memoria ce n'è uno all'anno ma io faccio tutto l'anno vado nelle scuole quando studiano storia metto la mostra ho fatto una mostra sulle leggi razziali italiane su storie di famiglie italiane non le leggi le storie di famiglie in conseguenza delle leggi le leggi sono scritte lì vicino a ogni episodio avvenuto dalla famiglia quindi il rapporto causa-effetto e questo lo faccio tutto l'anno perché sono argomenti che non riguardano gli ebrei ma riguardano l'umanità riguardano l'umanità e allora ecco allora dico questo accumulo del periodo della memoria ha creato qualche problema di basta basta ce n'è già troppi di sofferenze no no la gente ne ha troppe poi vorrei vederle tutte ma come faccio se ne fanno due o tre insieme quindi c'è un accumulo che secondo me crea spese notevoli e risultati bassi io ho fatto il consulente di direzione aziendale io penso al rapporto costi-risultati quindi lo dico sorridendo anche questo comunque il giorno della memoria è importante assolutamente va messo durante l'anno vanno riprese queste cose l'ultima domanda volevo fare e si dovrebbe parlare anche di altre cose oltre che di ebrei specialmente di Rom eccetera io sono andato a una serie di cose di congressi con i Rom e con i Sinti di cui ancora oggi sono in quella condizione noi ebrei siamo un po' usciti ma loro sono ancora in quella condizione questa è una cosa che ti fa molto onore a dire io ho fatto due giornate qua in università con i Rom l'ultima cosa è questa adesso è di grande in grande voga il discorso che ha fatto Steve Jobs agli studenti universitari lasciando praticamente il suo testamento spirituale non l'ho letto l'ho leggeochiato sì comunque abbiate coraggio siete affamati di conoscenza eccetera eccetera questo ha secondo me un grande successo innanzitutto per due motivi cioè prima Steve Jobs è stato un grandissimo personaggio culturale eccetera eccetera ma anche perché viviamo in un periodo di crisi molto grave di cui non si conoscono i confini perché ce li tengono in gran parte nascosti è inutile starvi a rigirare questa la realtà tenendoci nascosti i confini ovviamente non sappiamo nemmeno dove stiamo andando come se fossimo in un treno blindato con i finestrini chiusi tanto per usare qualche cosa che purtroppo ti è familiare che io ho vissuto almeno per otto anni esatto allora tu che invece hai vissuto davvero un periodo in cui si rischiava la vita la crisi significava tutti i miei cugini sono morti ad Auschwitz tutti i miei parenti moltissimi e io lo sapevo sapevo che erano stati portati in Germania qual è il messaggio che tu puoi dare a questi giovani che devono affrontare questa crisi ma il messaggio non è che posso dare lo do tutti i giorni quando io ho dei temi di ragazzi che prima mi hanno chiesto queste cose ma come hai fatto a vivere in quel modo lì gli dico l'uomo quando vive in una condizione estrema scopre le sue grandissime capacità io allora sono sopravvissuto alle botte di mio fratello che era buono ma era più grande di me aveva sempre un anno più di me eravamo piccoli quindi un anno è tanto alle botte sono sopravvissuto alla fame ha rubato la roba ai maiali l'ho portata il mio padre mi ha detto di riportarla ai maiali perché non si ruba però ero vincente ero vincente nel senso che soffrivo ma sapevo che io dentro dovevo esistere dopo la guerra io ho vissuto dai 10 dagli 8 ai 20 anni la cosa più tremenda perché io ho vissuto fuori dalla mia famiglia perché mio padre si è suicidato poco dopo mio fratello alcuni anni dopo ma mia madre voleva da noi delle cose fantastiche perché e mio fratello era bravo bravissimo scienziato poeta a 13 anni aveva tutti i libri di Benedetto Croce in casa e io ero scemo di famiglia perché ero uno che reagiva in questo modo per cui ho sofferto anche questo e mia madre ha capito queste cose perché era intelligente e mi ha lasciato andare fuori casa a 13 anni allora a studiare all'Olivetti pur di essere separato da un fratello così bravo però io ho vissuto da solo in camere gelate all'Olivetti camere d'affitto in mezzo a compagni assolutamente vincenti perché era il periodo di massima sviluppo dell'Olivetti tutti vincenti gli impiegati operai i contadini e io vivevo in mezzo a questa gente e sentivo che ero diverso ma non sapevo cosa c'era e come hai fatto a sopravvivere? stavo malissimo però io sono riuscito a dare gli esami e io mi sono diplomato perito meccanico mio fratello invece era un poeta quindi io sono un perito sono il primo che ha lavorato mio fratello quando io ho cominciato a lavorare si è suicidato perché si era appena laureato alla normale di Pisa per cui io sono sopravvissuto anche proprio perché facevo qualcosa di diverso dagli altri e dopo ho fatto il consulente di direzione aziendale quando il 99% dei miei colleghi erano laureati o in ingegneria o in economia o in economia io l'ho fatto e spesso ho gestito grossi gruppi di laureati sempre senza mai sapere nulla dell'azienda in cui andavo e senza conoscere le sue tecnologie ma spesso lavorando in campi diversissimi dalla finanza all'organizzazione delle squadre di scavo a Buenos Aires ho organizzato le squadre che scavavano per mettere i fili telefonici in altri posti in Perugina ho riorganizzato i rapporti tra i quattro massimi dirigenti i rapporti proprio tra le quattro direzioni sempre inventandomi tutto allora ecco la risposta la risposta uno che non ha santi in paradiso che non ha nessuno che non esiste fa di tutto per esistere e credo che nessun consulente mai che avesse un grosso background di università di studi eccetera mai abbia detto che quello che ho fatto io è andato male perché sono sono sempre stato super pagato per queste cose non direttamente le società di consulenza me ne davano una piccola parte ma mi cercavano perché io non avevo alternativa ho sempre detto di sì a ogni lavoro e ai ragazzi glielo dico ma guardate che quando dicevo di sì avevo paura di essere un filiburtiere avevo paura di essere uno che frega che dice delle cose non vere ma l'avevo detto e dopo mi arrangiavo leggevo libri e sono sempre riuscito a migliorare situazioni aziendali ma di ogni tipo anche climi qualche volta mi hanno chiamato per cambiare climi in azienda clima clima vuol dire rapporti tra le persone qualche volta molto per il controllo gestione controllo finanziario economico ecco allora i ragazzi dico se ho fatto questo che non ho lavorato non ho niente e tutti mi hanno stimato e non avevo background allora vuole dire che noi abbiamo qualcosa dentro ragazzi ce l'avete anche voi è un periodo duro ma c'è qualcosa nell'uomo d'altra parte lo vediamo quando c'è un allagamento la gente diventa tutta diversa da come era prima che dormiva tranquillamente nel letto ma da quel momento diventano 90% di persone reagiscono e diventano attivi e io credo un po' che sia questo la ragione per cui ho un piccolo ottimismo anche se i miei sogni sono assolutamente incubi ancora oggi la mattina mi sveglio non dico la parola ma con le palle concludiamo dicendo che attualmente la tua attività è quella di occuparti hai fondato un'associazione di volontariato che si chiama risorsa non l'ho fondata io però sono credo sono quello che fa lo sviluppo che si occupa ovviamente di che cosa di combattere il mobbing che è che anche il mobbing è una forma di antisemitismo moderna è una forma di persecuzione non antisemitismo perché riguarda persone diversissime non riguarda la tipologia di persona ma riguarda degli altri aspetti è molto complessa però non l'ho fondata io però sono entrato e credo di essere veramente quello che ha cambiato tante cose dentro adesso abbiamo fatto per i medici questo va de me che ci è voluto un anno abbiamo avuto la fiducia della FIMG dell'ordine ma per avere la fiducia bisognava far vedere che facevamo delle cose serie e anche questo me lo sono inventato questa volta come? come coordinatore del progetto ho obbligato tutti gli altri presidente vicepresidente eccetera a darmi dei pezzi perché io non sono esperto poi ci penso io a fare in modo che siano che siano trasformabili in qualcosa di accettabile perché mi sono sempre messo da parte dell'altro perché ho vinto perché quando fai organizzazione aziendale se ti metti dalla parte dell'altro non per farli amico ma se capisci i problemi dell'altro glieli risolvi se ti metti e gli dici no bisogna fare così non le risolverai mai perché è l'altro poi che si muove e questo credo ai ragazzi lo dico ancora una volta mettetevi dalla parte non per bontà ma per capire se volete capire mettetevi un modetto nella parte dell'altro poi rifatte i vostri interessi ma sapete l'altro come agirà in fondo frequentarti significa un po' ritornare in quei boschi dove tu eri il bambino e trasformarci tutti in staffette partigiane è vero che potrebbe essere questa staffette che poi non sapevo cosa voleva dire sapevo solo che quando andavo nel bosco c'era una persona c'era uno col fucile che andava e mi dava un bigliettino e Dallo mi diceva Dallo a Pietrina era l'unica bambina che io potevo che ho potuto vedere nei due anni in cui ero nascosto in una stalla ero nascosto con la mia famiglia però io andavo nei boschi e mio fratello invece stava lì a studiare mio fratello è già uscito dalla guerra che era già un genio no ma attenzione era veramente infatti io ho sofferto moltissimo quando si è suicidato perché? perché avrebbe potuto essere una persona eccezionale si è lavorato in fisica nucleare alla normale di Pisa non avendo soldi e i parenti non ce ne hanno dati ce ne hanno dati solo per la diploma e lui da solo è andato quindi devo dire in queste cose lui è stato svantaggiato perché era accarezzato dalla famiglia era il più bravo e quindi i suoi obiettivi erano precisi e io non sapevo che obiettivi avevo quindi li ho sempre cercati e continuo a cercare i miei obiettivi e per fortuna che li continuo a cercare perché uno che raggiunge i suoi obiettivi rischia il suicidio ti ringrazio rischia il suicidio rischia il suicidio Grazie a tutti.